Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi andremo a costruire la replica della Batmobile del 1989. Allora, la Batmobile del 1989, che è l'articolo 76-139, che è fuori produzione, era da 3.300 pezzi, fuori produzione non si riesce a trovare sul sito della Lego, quindi si trova soltanto per via attraverso o se qualche collezionista, qualche d'uno ne ha comprato una in più, la rivende a dei prezzi abbastanza elevati. Però, andando un po' a girare su internet, sono riuscito a trovare una storia strana, nel senso che con i set di questi due modelli, che sono la Charger di Toretto o la Batmobile, questa qua, l'ultima che è uscita, con questi due set, seguendo delle istruzioni che sono in PDF, ho trovato, difatti ho il computer qua perché seguirò le istruzioni con il computer, si riesce a replicare proprio quel modello di macchina. Logicamente, questi qua sono due pezzi che sono circa da 1.000 pezzi, adesso ve lo dico subito, sono da esattamente 1.077 pezzi la Charger e 1.350 questa qua di Batman, che è il modello 4227. Logicamente, io ho acquistato un set della Batmobile e vado a fare questa prova, che così ve la lascio, se qualcuno volesse replicarcela, vedremo che ci salta fuori. Naturalmente verrà molto più piccolina, però è un pezzo che mi piacerebbe avere, una cosa diversa, nella mia collezione di Batmobili. Allora, dei due di Toretto e questa Batmobile qua, come prezzo è più conveniente la Batmobile perché viene a 99 euro, mentre invece l'auto di Toretto viene a 119, quindi se volete provare vi consiglio di acquistare la Batmobile. Allora, l'unico problema che ci potrebbe essere è che, adesso andrò a aprire il set, ma non posso utilizzare le bustine numerate, naturalmente, perché dovrò dividere i pezzi singolarmente e seguire le istruzioni, quindi avrò tutti i pezzi assieme, quindi la prima cosa che farò è andare a aprire tutte le bustine, dividere tutti i pezzi per tipo e poi dopo seguire queste istruzioni che poi magari vi lascerò il link sotto al video se volete replicare e provarci anche voi a caso, va bene, vado ad aprire naturalmente il set e a questo punto, con molta pazienza, vado a dividermi pezzo per pezzo tutte le bustine. Grazie a tutti! Bene, allora ho terminato il montaggio. Ci ho messo un tot di tempo perché, logicamente, non avendo le bustine in fila, ci è voluto un po' di tempo a dividere i pezzi, insomma, è stato un po' complicato, però è stato divertente. Niente di complicatissimo, si fa, insomma, è fattibile. C'è una differenza abissale da quella del 1989, specialmente nel numero dei pezzi, anche perché, guardate, nel montaggio sono rimasti tutti questi pezzi, quindi dal set originale che doveva venire in questa maniera, la macchina, questa qua è la macchina del set, doveva venire così, abbiamo ottenuto il modello dell'89, similissimo, niente a che vedere, però, dai, alla fine ha una forma diversa, è abbastanza carina. Direi che, andiamo a vedere le sue funzioni, abbiamo la guida, che qua abbiamo una rotella che possiamo girare tranquillamente le ruote, in questa maniera, quindi c'è tutto il piantone dello sterzo lungo la macchina, è un po' lungo e si fa un po' fatica, un po' duro, comunque, girano, non è male. Poi abbiamo la cabina che si apre, anziché avere le porte, ha la cabina che si scivola in avanti e entrano i passeggeri, insomma, così, in questa maniera, avanti e indietro, e da questa parte abbiamo una rotellina, sempre con un ingrannaggino per far più presa, per avere più grip, facciamo uscire le mitraglie qua davanti, in questa maniera, anche questa qua è un bel sistema, è stato abbastanza articolato montarlo, è simpatico, mentre la monti non ti rendi conto di quello che stai facendo, vedete, così rientrano e così escono, ecco. Abbiamo qua di dietro le fiamme che girano, in questa maniera, adesso qua non si vedono, non si apre il cofano, però ci sono anche i pistoni che si muovono, in questa qua si vedono meglio, essendo più aperto, diciamo, il cofano dove c'è il motore, qui abbiamo la luce, diventa rosso il motore, e spremendo questa leva, anche nel cofano davanti, si accende la luce gialla, i due pezzi c'erano anche in questo set, questi qua, non ho trovato allocazione dove poterli mettere, quindi lì non li ho montati, però sì, questi qua sono quelli che fanno la lucetta. Niente, alla fine per 99,90€ ho ottenuto un modello diverso di Batmobile, certo che adesso dava un'occhiata qua su internet, il modello dell'89, non sul sito Lego perché è terminato, esaurito, non si trova più, ma su altri siti di compravendita Lego ho visto che è in vendita a 4,99€, 500€, anche 600€, visto arrivare delle cifre così, perché è un set abbastanza introvabile. Beh, sono contento, come dicevo è stato un po' complicato perché con le bustine non numerate ho dovuto spargere un po' i pezzi e dopo, insomma, ci ha voluto un po' di tempo per dividere i pezzi e cercare di capire anche le istruzioni, perché non sono molto semplici, sono più abituato alla carta che al computer e ho fatto un po' di fatica, comunque ci sono saltato fuori. Comunque sotto al video vi metterò il link dove trovare le istruzioni per costruirvi la vostra macchina. Vi ricordo che per ottenere questo modello potete acquistare sia la Batmobile, quella del 2022, o anche la macchina di Toretto, la charger di Toretto che è questa qua, che è anche questa qui, con la stessa macchina si ottiene lo stesso risultato. Bene, io direi che il video si conclude, sotto vi metterò il link dove anche acquistare, sul sito della Lego, comunque dove acquistare questa qua, perché è quella più conveniente, anche perché questa qua mi sembra che venga 130 e questa 99 è quella che conviene di più acquistare. Io direi che questo video si conclude, vi saluto, ci vediamo in un altro videomontaggio. Prossimamente avrò da montare, vi faccio uno spoiler, una nave mercantile di quelle vintage, è un modello molto vecchio e poi pian pianino mi arriverà anche la morte nera, quindi farò un video, un video e un video, insomma, dedicati a questi due pezzi Lego che sono veramente belli. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, seguitemi, per me è molto importante, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video, video ricetta, sì, no, al prossimo video montaggio. Ciao da Davide.